ciao a tutti amici di golf project alessandro pizzi paolo battistini siamo nella rubrica gioca sotto gli 80 colpi quindi siamo arrivati i giocatori professional quasi prima categoria esatto ci saranno anche qua 8 video su consigli su esercizi molto molto più difficili per togliere più possibile dei colpi e poi che cosa consigliamo i giocatori tanto consigliamo almeno tre pratiche la settimana una lezione al mese e anche almeno un paio di volte in campo 18 bucche a settimana magari anche con qualche sfida con qualche vostro amico più basso di end che vi mette un po di competizione quindi ragazzi seguiteci in gioca sotto gli 80 perfetto